Dopo aver introdotto varie concezioni molto, credo, intuitive da capire sul come l'uomo costruisco oggetti. Vediamo un po' più nel dettaglio la differenza fra la manifattura additiva e sottrattiva e soprattutto cosa si intende per CNC, una parola molto usata in questi campi e quale sia anche quindi la relazione del CNC con queste modalità di produzione. Come già indicato, la produzione di oggetti tramite eliminazione del materiale superfluo per ottenere del materiale che rimane il manufatto desiderato, viene detta manifattura sottrattiva. Torni, trapani, frese, trocciolatrici e macchine del genere hanno parti in grado di erodere il pezzo per modellarlo, lasciando solo il materiale utile alla realizzazione della forma finale. Queste macchine utensili rimuovono materiale da un pezzo grezzo semilavorato per ottenere il pezzo lavorato con la forma desiderata, spesso tramite più passaggi del pezzo in macchinari diversi. Lo scarto a volte può essere riciclato poiché è composto spesso da materia prima riutilizzabile, come un metallo che può essere raccolto e fuso nuovamente, a volte invece il materiale di scarto viene smaltito. Queste macchine sono dotate di frese, punte, lame, insomma parti spesso molto costose e comunque forgiate con materiali tecniche speciali, in modo da poter intagliare altri materiali duri, come il legno e il metallo. E' inoltre necessario un supporto stabile, rigido e affidabile per ottenere la giusta precisione. Il pezzo va tenuto fermo e in posizione e anche le parti in movimento devono essere controllate non solo con precisione, ma anche con forza e potenza per permettere il movimento e l'adempimento dei loro compiti per scavare, per sottrarre il materiale. Quindi, la manifattura additiva si basa su un principio opposto di quella sottrattiva, cioè l'idea è di aggiungere materiale man mano per realizzare l'oggetto. L'approccio è quasi sempre quello di depositare strato per strato l'oggetto, accumulando in ogni strato materiale che aderisca allo strato precedente. Il tipo di stampa 3D su cui noi ci concentreremo è la stampa 3D FDM, Fused Deposition Modeling. In questo caso, della plastica fusa viene rilasciata da un ugello posizionato su una testina in movimento per disegnare letteralmente, strato per strato, come farebbe un pennarello. Non è l'unica tecnologia possibile, e ne vedremo altre, ma la logica sarà sempre simile. Ogni strato viene fatto solidificare in modo che aderisca a quello sottostante per creare i volumi desiderati. In questi filmati la velocità è molto accelerata, infatti la stampa 3D necessita di tempo, perché bisogna disegnare in qualche modo lo strato con il materiale prescelto, bisogna accertarsi che aderisca allo strato sottostante e che sia realmente solido prima di procedere con un altro strato. Se come in questo caso si utilizzano termoplastiche, per esempio, significa che la plastica viene scaldata per depositarla e farla aderire allo strato sottostante, ma anche che ogni strato deve raffreddare sufficientemente per poi indurirsi e reggere lo strato soprastante. Beh, non preoccupatevi, capiremo più in dettaglio come funzionano i vari tipi di stampante 3D più avanti. CNC. Ecco, cos'è il CNC? Nel mondo delle macchine per la manifattura, questa parola CNC indica una categoria molto molto importante di macchine utensili. CNC è un acronimo, Controllo Numerico Computerizzato. Significa che la macchina muove le sue parti operatrici, come le frese o le altre parti meccaniche, sotto il controllo di un computer. Intendiamoci, non stiamo parlando necessariamente del classico PC. Potrebbe trattarsi anche di un computer con una interfaccia diversa da quella di una tastiera o uno schermo. Spesso non troviamo una tastiera o un monitor, ma troviamo dei display semplificati, dei pulsanti per interagire con la macchina, o altre volte sono veramente connessi a dei computer tradizionali e quindi invece, diciamo, l'idea di computer che pilota è proprio quella classica. In tutti i casi il controllo della macchina e del suo movimento avviene grazie a un software presente nel laboratore che comanda per via digitale degli attuatori, ovvero sia delle delle parti che elettromeccaniche o pneumatiche che attuano al movimento. Il software dell'elaboratore legge un programma, detto percorso utensile, e questo programma è codificato in un linguaggio idoneo e il computer ha un software in grado di eseguire i combandi contenuti nel programma. Il programma quindi può essere eseguito tante volte in modo identico per produrre in serie il manufatto. Dal momento che il computer esegue il tutto con assoluta precisione e comanda attuatori che normalmente hanno un'elevata precisione e raggiungono velocemente il loro posizionamento con prestazioni difficili, se non impossibili da tenere a mano da un operatore umano, questo approccio permette di effettuare le operazioni ripetitive con una elevatissima precisione e velocità rispetto a che se fossero mosse da un essere umano. Quindi la macchina CNC è una macchina di cui la manifattura sottrattiva per esempio fa larghissimo uso. Una macchina CNC è definita dal numero di assi, cioè di movimenti in direzioni o su angoli indipendenti che può attuare. Una macchina un solo asse per esempio potrà muovere l'utensile in una sola direzione, una macchina più asse in più direzioni. La macchina CNC è caratterizzata dal suo utensile, quindi per esempio un utensile tipico può essere una fresa, per una macchina un solo asse può essere una punta che attua dei fori. E normalmente comunque questo utensile muovendo si scava nel metallo, nel materiale per scolpire la forma desiderata. Per impedire di muovere l'utensile fuori dalla zona di lavorazione per posizionarlo nella posizione di partenza spesso sono presenti dei sensori, degli encoder. Poi dei motori elettrici o altri attuatori si occupano di muovere i vari assi, a cui è solidale l'utensile, in modo da posizionarlo e azionarlo dove serve con la giusta inclinazione, e per mettere in moto e controllare i motori, cioè gli attuatori, normalmente è necessario convertire i segnali del computer digitali in impulsi o correnti elettriche e a questo servono gli azionamenti. Infine il computer ovviamente controlla gli azionamenti, eseguendo il codice che determina il percorso macchina e le azioni dell'utensile. Quindi tipicamente le macchine CNC sono costituite da encoder, motori elettrici, azionamenti e da un computer che muove il tutto. Le stampanti 3D corrispondono alla definizione di macchine CNC tutto sommato perché hanno un processore che le comanda, quindi un computer, degli attuatori che muovono i motori che spostano l'ugello, la piastra su cui poggia il modello, se parliamo di stampanti FDM ma comunque anche nel caso di altri stampanti, oppure che spingono il materiale da fondere o nel caso di resine che solidificano con la luce e magari deviano un raggio laser o accendono quadri luminosi. Praticamente tutte hanno poi anche dei sensori di livello, di posizionamento, anche per le temperature. Le macchine CNC, diciamo così classiche, sottrattive, sono davvero parenti quindi strette delle stampanti 3D. Per molte stampanti 3D, come per esempio quelle più diffuse per l'FDM, addirittura il linguaggio che definisce il percorso utensile è praticamente un dialetto quasi lo stesso, insomma, di quelli usati per il CNC sottrattivo con le frese. È un linguaggio che definisce il percorso utensile e gli altri razionamenti, insomma. Ovviamente c'è qualche comando specifico, magari diverso, ma spesso il linguaggio è proprio praticamente lo stesso. Ecco perché il CNC è così importante, chi si intende di CNC in un certo senso è già introdotto anche nel mondo della stampa 3D, che in fondo si basa su macchinari tipici di questo settore. Abbiamo quindi inquadrato le due tipologie di manifattura additiva e sottrattiva e notato quanto in realtà le macchine che attuano le due lavorazioni siano spesso simili nei loro componenti, almeno nei loro azionamenti e nel fatto di essere controllate da un computer. Ora possiamo approfondire le caratteristiche che possono portare a scegliere o meno la stampa 3D come metodo per produrre un manufatto, perché a volte la stampa 3D non è idonea, oppure soltanto certe tecnologie di stampa 3D sono idonee, a volte è più idonea un approccio sottrattivo o altri approcci. Quindi ora ci occuperemo di come scegliere o meno la stampa 3D come metodo di produzione. Grazie 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 Grazie